La storica tombola di San Paterniano anche quest'anno è organizzata in occasione della festa del patrono di Fano. Una tradizione fanese ideata da padre Damiano subito dopo la seconda guerra mondiale e poi organizzata da padre Damiano stesso e dai frati di San Paterniano fino al 2008. Un evento radicato nella comunità che ha modo di sostenere i più bisognosi in un giorno che dovrebbe essere di festa per tutti. L'invito ai cittadini di partecipare, sono questi ragazzini con le magliette gialle che girano per Fano in queste ore domani per staccare un po' di biglietti, va ricordato che va in beneficenza, va per il Vescovo, per i frati di San Paterniano in momenti così difficili, è un piccolo ma importante segnale di una comunità che si stringe attorno a chi ha più problemi. Un partner importante per questo atteso appuntamento popolare, la Carifano che vede la propria sede proprio affacciarsi sulla piazza dove avverrà il sorteggio dei numeri fortunati domani sera. È una bellissima tradizione, io l'ho percepita capendo e parlando con i colleghi, con l'entusiasmo che i colleghi mi hanno trasmesso, mi hanno fatto capire quanto importante è questa festa del patrono, questa tombola per i cittadini di Fano. Dal 2008 in poi i frati non sono più stati in grado di organizzarla e così l'amministrazione comunale ha incaricato l'ACLI di Sant'Orso di farsi carico sia della vendita dei biglietti che dell'organizzazione dell'evento. E quindi tutto pronto qui per celebrare questo rito ormai amatissimo e anche solidaristico per il bene di una comunità importante, il Torricino con i numeri che vedete alle mie spalle sarà quello che decreterà il vincitore della tombola di San Paterniano. Più gente interviene meglio è, poi la finalità diciamo è quella che è, è naturalmente il Monteprimi che è di 2000 euro diviso in 250 euro la Quaterna, 500 euro la Cinquina e 1250 euro la Tommola. Inizio a? Allora iniziamo già alle 9 con il gruppo che fa un po' di musica, c'è Alieta, il gruppo si chiama Frammenti di Suono e poi alle 10 e mezza c'è l'estrazione della, la classica estrazione della tombola sperando diciamo che arrivino i numeri prima possibile per far vincere a qualcuno. Grazie a tutti.